Prove tecniche per il Pescara in vista della gara di domenica a Bari, questo pomeriggio allo Stadio Adriatico nell'amichevole con l'Under 21. I ragazzi di Zenec Zeman si sono imposti con il risultato di 2-1 in rimonta. Azzurrini di Dibiaggio in vantaggio al decimo minuto del primo tempo con Vido. Al trentunesimo il pareggio per il Pescara firmato da Leonardo Mancuso. Il sorpasso nella ripresa al sedicesimo con il gol di Cappelluzzo. Gara importante e ben giocata dalla formazione adriatica che dunque spera di poter tornare al successo nella gara di domenica sera al San Nicola di Bari. Un amichevole che ci ha consentito di mettere un po' di minuti nelle gambe perché tanti ragazzi è un po' che non giocano, quindi era quello che volevo. Quindi l'obiettivo è stato raggiunto. A livello di prestazione c'è da migliorare come sempre, abbiamo perso un po' le distanze dopo un buon primo tempo. Però ci sta. Come detto prima era quello che stavamo cercando. Come vede questa squadra che in campionato in questo momento sta attraversando qualche difficoltà? Come la vedo io sono un po' di parte, nel senso che spero che il Pescara vada bene per il Miss, per il Presidente Sebastiani, per il Marinelli. Quindi sapete bene cosa sono di casa qui ormai e quindi spero che possa far bene, che possa andare in Serie A. È un momento particolare, un po' come tutte le squadre di Serie B, visto che tutte stanno cercando continuità e chi la troverà per primo prenderà la vetta della classifica, visto che cambia in continuazione. Il Pescara ha la speranza per tutti i tifosi e che possa prenderla a breve. Cosa le ha detto Zeman prima della partita? Vi siete salutati, vi siete visti? Ha sempre una presa in giro, lui si cerca sempre di sorridere, anche perché il suo modo di vivere un po' la vita è fatto così. Stempera sempre tutto quanto, è tranquillissimo, dà una tranquillità a questi ragazzi nel giocare a calcio che è unica. Approfitto per ringraziare il Pescara Calcio per quello che ci ha consentito di fare in questi giorni e per quello che ci ha consentito di fare oggi. Quindi pubblicamente ringrazio il presidente Sebastiani, il nostro presidente Marinelli, il mister non lo ringrazio perché alla fine l'ho chiesto esplicitamente qualche tempo fa di fare questa amichevole.